Sto partendo ok? Vai. Ed è con grande piacere che questa settimana all'interno del nostro spazio dedicato all'arte e alla musica abbiamo ospite Attilio Fontana, cantante, attore e compositore, artista a 360 gradi e ricordiamo anche vincitore di due edizioni di tale e quale show. Grazie per essere qui con noi e benvenuto. Grazie a voi, scusate la macchina ma così facciamo una intervista creativa. Dato il senso del live insomma che stiamo facendo questa chiacchierata. La prima cosa che vorrei chiederti riguarda il tuo singolo tango lento estratto dal disco Sessioni Segrete, un post-it pronto a ricordare che ogni giorno siamo invitati a scrivere la nostra vita e che abbiamo sogni da disegnare. In che senso? Ma c'è una frase che dice ogni giorno la vita che passa è una matita che perde la punta ma scrive qualcosa per chi resterà e quindi l'idea di lasciare il segno qualunque cosa facciamo è un po' una canzone amuleto che io mi porto dietro da tanti anni che faccio tutti i miei live e praticamente è una canzone che augurava di portare fortuna agli avventuriere e gli artisti ma oggi siamo tutti così perché insomma questo senso di precarietà e di non orizzonte riguarda un pochino tutti e quindi mi sentivo di estendere l'invito a questa fortuna e di insomma di distribuirne per più persone ecco questo è un po' il senso della canzone. Una canzone dicevo prima che fa parte di Sessioni Segrete, questo album che tra l'altro hai registrato all'interno dell'Ellington Club di Roma è un album che in qualche modo racchiude parte della tua storia ma anche dei tuoi sentimenti e del tuo sentire musicale. Sì è un album che desideravo fare da tanto tempo, io ero un amante dei bootleg, dei live, di questi dischi dove senti la verità no? Oppure senti le canzoni un pochino più nude ma più sincere e questo covid, questo lockdown è stata un'occasione perché ho dovuto rimandare due volte questo live, al terzo ho detto senti facciamo un set audio e video e registriamo un bel disco in questo posto meraviglioso che non può essere aperto e quindi abbiamo deciso di tirare fuori Sessioni Segrete, abbiamo preso questo posto per tre giorni con Franco Ventura e Roberto Rocchetti al pianoforte, abbiamo fatto in trio questa collezione di canzoni e quindi è una versione un po' clandestina di room distillato a mano diciamo. Una versione sicuramente accattivante come tutti i brani del resto che poi contengono e sono contenuti dentro il tuo album, tra questi c'è Triangolo che è un omaggio al grande Renato Zero che ovviamente è riarrangiato. Sì Triangolo perché con Franco ci divertiamo a giocare ogni tanto a rivisitare dei brani famosi e con Triangolo abbiamo fatto una prova in un paio di concerti e insomma il pubblico andava un po' invisibilio e c'era la possibilità come nel disco di cantare questo corretto che è lui chi è che abbiamo lasciato vuoto proprio per il pubblico per renderla interattiva e dedicarlo un po' a questo virus sperando che se ne vada da questo triangolo malefico che ha generato nelle nostre vite togliendoci la privacy, l'empatia, una sessualità libera, tutto quanto quindi in qualche modo era un po' anche quello un piccolo esorcismo per mandare via questo intruso. Vorrei fare ora un passo un po' indietro di poco tempo riguardo all'esperienza al tale e quale show. Vincitore due volte dicevo prima ma di tutti i vari artisti che hai interpretato ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente nel cuore e viceversa se c'è invece qualcuno che non hai fatto e che invece avresti voluto fare? Ma guarda che ho fatto ce ne sono diversi perché ho avuto la fortuna di interpretare un po' i miei miti della musica soprattutto i miti della musica italiana è un Battisti diciamo che è stato fatto per la prima volta che per me insomma mi ha cresciuto nelle mie adolescenze piuttosto che De Gregori, Dalla con cui ho lavorato è un po' una Vanoni che è stata molto divertente e ha divertito molto anche se poi l'ho fatto in una versione anche un po' malenconica e più realistico possibile nonostante il fisico suggerisse altro forse perché insomma trasformarmi è stato particolare. No devo dire è stato un viaggio meraviglioso e ripeto mi sono ritrovato adolescente anche Rino Gaetano insomma ho potuto interpretare quelle persone che mi hanno un po' fatto da da genitori artistici ascoltandoli per ore infinite quando non c'era internet, quando non dovevi per forza schippare dopo dieci secondi ma una cassetta, un disco lo dovevi sentire tutto più volte perché era l'unica possibilità di sentirti vivo all'interno di quelle canzoni e mi sarebbe piaciuto interpretare altri miti come non so il cantante delle Zeppelin piuttosto che Jeff Buckley insomma miti un po' meno noti al pubblico però che avrei potuto fare perché li facevo nelle cantine quando ero adolescente ma diciamo che non c'è stato modo. Chissà che magari ci sia poi un futuro qualche progetto dove magari farei dei brani loro. Chissà chissà speriamo. Invece nella tua carriera una grande artista che ha avuto un ruolo importante è Lucio Dalla tu lo chiami il grande maestro con cui si è instaurato tu dici sempre un rapporto non soltanto artistico ma anche umano. Beh diciamo che era uno dei miei miti dell'Olimpo, della musica quindi sognavo di lavorare con Lucio perché rispetto ad altri era proprio quello che mi appassionava di più, ho vissuto tante epoche facendo cose diverse da Caruso a Tenti al Lupo ai pezzi con Roversi negli anni fine 70-80 tutti i dischi che ho consumato. Quindi c'era questo provino di Tosca Amore Disperato che io preparai ossessivamente e devo dire forse è stato uno dei più belli della mia vita e mi ricordo che lui entrò durante il provino e mi fece questo applauso e lì capì che forse potevo essere preso. Da quel momento in poi per due anni siamo stati in tournée tutti quanti e lui era molto affezionato a questo spettacolo cercava di esserci sempre di torturarci insegnandoci tantissimo e facendoci ripetere le parti ossessivamente e in quegli anni ho avuto la fortuna di diventare insieme al cast, insomma tutto il cast anche amico di Lucio perché frequentavamo la sua casa, la sua nave dove registravamo, la sua barca, ci portava a vedere film in teatro, era proprio una specie di circo ambulante che girava con lui e lì ho potuto rubare tantissimo, ho avuto anche la fortuna di scrivere delle canzoni con Lucio che forse è uno dei regali più grandi che che mi ha lasciato perché insomma è una prova tangibile dell'affetto e della stima che si era creata. Questo è un periodo molto difficile per gli artisti perché il settore dello spettacolo è quello sicuramente più colpito ma tu hai detto che la pandemia è stata in qualche modo un'opportunità attraverso anche l'album che hai realizzato ma adesso guardi al futuro in che modo, quali sono le tue prospettive, i tuoi progetti? Ma guarda, guardo al futuro speranzoso, ottimista come dici tu, positivi non si può dire, ottimista perché spero di riprendermi la mia vita, l'ossigeno, cioè in realtà abbiamo eliminato l'empatia, non ci si guarda più, si ha una maschera, chi ti viene incontro è un nemico, insomma questo Covid, l'atteggiamento anche politico diciamo nei confronti di questo Covid ha cercato di neutralizzare tutto ciò che è umano e umanizzante, quindi io spero che torni quel linguaggio di cui abbiamo bisogno e per me come per tanti artisti, tanti tecnici, il teatro è un luogo sacro, è come una chiesa e si celebra l'umano, quindi se all'umano togli l'umanità è come a una mela togliere la melità, non so più di mela, quindi io mi auguro che torni questa empatia che al di là di uno schermo dove vederci e comunicare è molto bello, però si possa fare in maniera naturale da quando è nato proprio l'uomo preistorico, c'è una comunicazione che viene a mancare secondo me, un'empatia, quello che accade quando le cose succedono dal vivo non accade attraverso gli schermi o dietro una mascherina, quindi spero che arrivi presto questo momento. Ma ci sono dei progetti che già stai cominciando, su quale stai lavorando? Beh c'è una commedia che è stata molto di successo interrotta dal Covid che è con gli strani vicini di casa con Clizia, la mia compagna Caspar Capparoni e Laura Lattuada di cui dobbiamo riprendere una tournée, uno spettacolo che avrei dovuto cominciare a fare per Scaravanzia, non dico nulla perché forse quest'estate ridebutta e che prevedeva veramente molte date in Italia, un progetto importante, un film che veniva trasferito diciamo in teatro per la prima volta e questo album che spero di portare in giro dal vivo e l'idea di continuare a progettare perché in questo anno comunque ho scritto uno spettacolo, ho realizzato un album ma poi se non trovano luoghi dove essere vissuti i poverini rimangono impazziscolo dentro questa cella di isolamento. Speriamo di no ma soprattutto speriamo anche di averti qui in Sicilia, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, grazie ancora a Tidio Fontana. Grazie di cuore e un bacio da una Roma, credo arancione oggi. Credo di sì, ancora sì. Ciao, a presto, grazie.